Un importo messo insieme in poco più di 5 anni, dal 2011 al 19 febbraio 2016. Piccole somme raccolte di nascosto giorno dopo giorno, anno dopo anno. Somme che, da quanto conteggiato dalla Guardia di Finanza di Teramo, gli avrebbero permesso di intascarsi oltre 86 mila euro di soldi pubblici. Luciano Antonini, 50 anni, dipendente della Camera di Commercio di Teramo, addetto allo sportello anagrafico, certificati e visure, avrebbe intascato parte delle somme ricevute dal rilascio delle visure camerali. A conclusione delle indagini preliminari, coordinate dal PM Andrea De Feis, Antonini è accusato del reato di peculato aggravato dal danno patrimoniale di rilevante gravità. Le fiamme gialle hanno calcolato che, nel solo biennio 2011-2012, abbia sottratto oltre 60 mila euro, mentre dal 2013 al 19 febbraio 2016, oltre 25 mila euro. Secondo le indagini, il modus operandi era il seguente. Antonini, nella sua qualità di addetto allo sportello della Camera di Commercio, che rilasciava visure camerali, avrebbe sottratto negli anni ingenti quantità di denaro, da lui incassate quali diritti di accesso degli utenti, facendo figurare le somme ricevute frutto di erronee richieste annullate alla chiusura di cassa.